Ciao ragazzi sono 7, benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi voglio trattare con voi un'analisi un po' più lucida rispetto a quello che avevo visto all'inizio del video della volta scorsa, in quanto mi ero lasciato prendere un bel po' dalle emozioni e non ho fatto l'analisi lucida di alcuni punti che mi sembrano fondamentali approfondire. East ci ha mostrato alcune scene che ritengo siano molto molto importanti. Potevano essere l'ennesima presa per il culo per noi poveri spettatori, ma credo che vale la pena di analizzarli in maniera abbastanza dettagliata. Infatti nel terreno di Vikings all'inizio vediamo Bjorn che effettivamente è ancora vivo, sdraiato sul letto di Kattegat che aspetta una guarigione. Quindi io dico, alla fine quindi la visione che c'era stata nella scorsa stagione alla fine era vera, ossia Bjorn era stato colpito da Ivar alla tezza del costato e Ivar se l'ha fatto tutta quella strada sempre con la stampella e con la spada fino ad arrivare a lui e Bjorn non si era accorto del fatto che c'era uno con la stampella che veniva verso di lui e l'ha colpito con la spada. Io credo quindi che Bjorn non sia a questo punto un grande combattente se non ha visto Ivar che veniva verso lui con una stampella e con una stampella ci avrebbe avuto tre ore di arrivare fino alla spiaggia. Ma comunque Bjorn effettivamente è ancora vivo e in qualche modo l'hanno portato via dalla battaglia morente praticamente perché anche sul letto almeno quello non è che corre salta ma almeno è morente sul letto o almeno comunque è gravemente ferito e questo ok va bene d'accordo non sarebbe logica per quanto riguarda la sua ferita ma vabbè dettagli. Gunhild pensa appunto che Bjorn, la morte di Bjorn potrebbe segnare la fine dell'era dei vichinghi e in un certo senso forse è così in quanto Ivar adesso è totalmente con i Rus e ambisce a diventare lui sovrano dei vichinghi ancora una volta eppure per adesso appunto non è più potenzialmente un vichingo. Bjorn è l'ultimo spiraglio dei vichinghi di Kattegat ma è ben consapevole del fatto che i Rus sono molti di più hanno un esercito molto più grande e molti dei suoi hanno paura di affrontarlo perché sono moltissimi quindi sono curioso di sapere come si evolverà questa situazione in quanto sì, Ivar e Bjorn si sconteranno ancora una volta ma come farà Ivar a uscire da quella situazione ed avere un altro esercito di vichinghi tra l'altro per andare a combattere in Inghilterra e combattere contro Alfred? Le possibili soluzioni sono poche una tra queste è possibile che Ivar riesce a sconfiggere Bjorn e che lo uccida potrebbe essere noi non lo sappiamo ma il fatto è che sarebbe incongruente storicamente ma una sprosibili soluzione per questo potrebbe essere appunto la sconfitta e la morte del povero Bjorn spero che non sia così ma credo possa essere effettivamente quello che succederà infatti se notate nella battaglia contro Alfred in Inghilterra con della terra bruciata Ivar fa un discorso e dice che voi dite ancora di essere vichinghi voi dite ancora di essere vichinghi allora dimostratemelo quindi vuol dire che ha preso un esercito che non era il suo e che ha dovuto spronare per attaccare l'Inghilterra quindi effettivamente è stato lui a vincere insieme a Oleg probabilmente nella battaglia quella tra Rus e vichinghi quindi questa teoria viene rafforzata da questo fatto ossia voi credete di essere ancora vichinghi allora dimostratevelo andiamo a conquistare l'Inghilterra contro Alfred inoltre Ivar dice stringendo nel pugno la statuetta di Ragnar perché penso sia quella oppure la statuetta raffigurante lui stesso oppure la statuetta raffigurante Ragnar che lui vuole essere seppellito come il più grande vichingo di tutta la storia e accanto a lui c'è Vizzerk e di Vizzerk dobbiamo parlare abbastanza approfonditamente infatti Vizzerk viene inquadrato per buona parte del Terra ok è l'elesima volta che Vizzerk viene inquadrato a fare qualcosa alla fine si rivela totalmente inutile totalmente sacrificabile ai fini della trama eppure sono convinto che finalmente alla fine delle stagioni grazie Ista ci ha voluto un bel po' ma alla fine ce l'abbiamo fatta potrebbe effettivamente portare a qualcosa perché lui dice che il suo destino è ucciderlo quindi tanto vale che sia con lui a parte il fatto che è una roba da folli dire una roba del genere perché tu stai dicendo a quello che dovresti ammazzare che vuoi ucciderlo quindi Ivar è tipo con le orecchie tipo con le antenne alzatissime nel senso hai guardi a ogni momento cioè sarà molto complicato uccidere una tale situazione e poi tra l'altro il rapporto tra Vizzerk e Ivar è abbastanza strano perché si vogliono bene ma al tempo stesso percepisco molto stili tra i loro due quindi boh è un rapporto abbastanza strano e Vizzerk stesso dice che ha abbandonato il fratello che amava di più cioè Ube e che si è messo in un destino che lo porterà sicuramente a una disfatta e credo che sia vero in quanto Vizzerk ha abbandonato l'unico che un minimo gli dava diciamo credit un minimo credeva in lui ossia Ube Ube che adesso è totalmente da altra parte che fa totalmente altre cose quindi Vizzerk è rimasto da solo con Ivar si lascia andare al corso degli eventi e presumo che tenterà di fare una diciamo perché lo vediamo anche in Inghilterra contro i soldati inglesi che combatte quindi effettivamente Ivar e Vizzerk anche lui perdurerà fino in Inghilterra quindi diciamo che questo rapporto amore-odio con Ivar non so come andrà a finire alla fine vorrei menzionare brevemente una piccola scena che ho visto che si ritrova abbastanza particolare cioè il fatto che di fronte a una barca di fronte a Torce Gunil si inizia a spugliare dunque credo che ci siano poche indicazioni riguardo a questo sia il fatto che probabilmente Gunil si vuole offrire nel sacrificio per qualcosa magari per una vittoria per un sacrificio propizio agli dei sarebbe una scena molto interessante ma anche molto cioè ci toglieremo un personaggio che io apprezzo particolarmente Gunil è un personaggio femminile che io ho apprezzato molto dalla morte di Laghertha poi uno dei personaggi femminili che apprezzo di più se possibile perché tutti gli altri diciamo sono non macchiette ma quasi ci sono Gunil e Torvi in realtà le uniche che insomma hanno qualche personalità soprattutto Gunil Gunil secondo me è un grandissimo personaggio e vederla morire così per un sacrificio che ovviamente non sappiamo le cause non sappiamo che cosa ha portato a quel sacrificio potrebbe essere qualunque cosa ma il fatto che appunto si faccia questo non fa presagire nulla di buono parliamo adesso un attimo di Ube Ube che lui vuole raggiungere la Golden Land perché era il sogno di suo padre il suo padre cioè io confondo l'italiano con l'inglese ragazzi io parlo meglio se lo state chiedendo io parlo meglio l'inglese che l'italiano quindi lasciate perdere io mischio termini italiani anglofoni allo stesso modo in cui mischio di tutto mischio veramente di tutto lasciate esternere comunque Ube vuole arrivare in Inghilterra per portare a termine il sogno di suo padre e raggiunge nella Golden Land solamente con due navi insieme a Oder e Torvi non c'è non vediamo Chietil con il gruppo quindi è probabile che Ube o lo uccide prima o c'è un conflitto e muore in qualche modo oppure muore Naufrago perché non c'è Chietil quando appunto arrivano nella Golden Land a meno io non l'ho visto poi magari se l'avete visto voi scrivendo qua sotto i commenti non mi pare di averlo visto tra quelli che giungono sulla Terra e sarà interessante perché Ube giunge alla fine sull'isola di Terra Nova probabilmente o in Groenlandia o comunque nell'America del Nord molto orabilmente e lì incontrerà e si è visto nel teaser trailer che verrà circondato da indigeni locali e forse potrebbe essere che effettivamente lì troveremo i Flocky cioè che è arrivato lì appunto con la sua barchetta ed è diventato una specie di sciamano del popolo degli indigeni dell'America del Nord potrebbe essere una svolta interessantissima e potrebbe tirar fuori un personaggio che è stato liquidato in maniera molto molto veloce cioè semplicemente seppellito sotto un vulcano senza una fine diciamo degna di un tal grande personaggio come è stato Flocky quindi spero veramente che ci possano portare indietro il buon Flocky non lo lasciano lì morto così senza alcuna diciamo senza alcuna fine degna per un tale personaggio cioè morto sotto un vulcano mi spiace ma no non lo accetto io voglio vedere Flocky che è ancora vivo e se proprio deve morire in qualche modo che muore degnamente come un personaggio che si rispetti dagli una morte degna di questo nome e per quanto riguarda Rollo mi fate in tantissimi questa domanda ma Rollo ma Rollo ragazzi Rollo non è stato inquadrato per niente del trailer qualcuno dice che ma se inquadrano Rollo o Flocky o altri e si tolgono tutti diciamo la sorpresa ma in realtà ragazzi tu fai un trailer basato appunto sulla sorpresa quindi magari fai inquadrare un frame di tali personaggi in modo tale che sale l'hype e così funziona il trailer cioè tu inquadri le cose più salienti della stagione in una specie di un piccolo mix in modo tale che tu ti salga l'hype e il pepe al culo e in questo caso non abbiamo visto ne Flocky ne Rollo è per questo che sono abbastanza preoccupato cioè dovrebbe essere il lavoro di uno che fa il trailer inserire elementi fondamentali o comunque che generano hype nello spettatore e siccome noi abbiamo visto ne Flocky ne Rollo mi fa pensare abbastanza a questa cosa non so in che modo Rollo potrebbe tornare indietro probabilmente affiancando Bjorn nella battaglia contro il Rus ma perché quale motivo avrebbe di affiancare Bjorn se non per il fatto che lui è in teoria suo figlio e che ha un debito con lui forse di onore ma abbiamo visto che Rollo ormai è un uomo senza onore forse potrebbe ridimersi questo sarebbe un passaggio molto importante per lui ma non so effettivamente se Rollo tornerà oppure no questo non lo possiamo sapere finché non vede effettivamente gli episodi c'è un altro dettaglio che mi fa pensare riguardo a Ivar il fatto che quando è in Kiev e parla con la principessa Katia che ancora non ho capito chi è questa qua non ho capito se è la sorella di Freydis una sua parente una sua rincarnazione una sua proiezione nella mente di Ivar come qualcuno sostiene che gli fa raffigurare Katia come esattamente con il volto di Freydis vabbè che è la stessa attrice ovviamente non so effettivamente questo personaggio ma Ivar gli dice che lui ha altre ambizioni lui non pensa che il suo destino sia tra quelle mura quindi effettivamente lui vuole riconquistare Katia vuole fare grandi cose vuole appunto conquistare e vuole che il suo nome sia addirittura più famoso non ha abbandonato questa sua arroganza cioè credo che sia a posto riguardo al fatto che lui non è più un dio lui è un dio lui è un dio ma il fatto è che lui ha moltissime ambizioni e di questo sono molto contento perché Ivar non può rimanere una macchietta all'interno del panorama dei Vikings ma deve essere il protagonista principale e questa sua ambizione è molto molto importante almeno per me e per questo è tutto ragazzi scusate se questo video è stato un problema ci tenevo a fare un riassunto per punti degli elementi presenti all'interno del trailer che meritavano un piccolo approfondimento è molto importante che riusciamo a capire effettivamente cosa Ist vuole proporci come ultima stagione di Vikings perché è la stagione che chiude tutto in teoria gli episodi sono 10 oppure 12 non si sa effettivamente quanto saranno numerati perché vanno dal 31 di 30 di dicembre al 30 marzo quindi sono più settimane in cui episodi vengono applaudati uno a settimana quindi probabilmente saranno più episodi almeno questo nella mia testa poi non so potrebbero essere anche solo 10 episodi però in quei 10-12 episodi Ist devi concentrare tutto e definire tutto quello che ti hai prefissato di finire non sarà facile non voglio che questa serie finisca come una certa serie che conosciamo molto bene che è finita solamente in 6 episodi alla fine ed è stata una merda totale io lo dico qui e lo affermo che quella serie in particolare con Draghi con tizi Zerbino e con tutto il resto è diventata veramente una serie del cavolo e qui lo dico e qui lo affermo è finita veramente uno schifo non voglio che subisca lo stesso destino caro il mio Michael Hirst mi fido di te se non farai quello che io penso che tu possa fare perché tu sei un bel gran senneggiatore beh ci saranno conseguenti ci saranno conseguenze molto importanti a parte gli scherzi ragazzi grazie veramente del supporto e scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questo tema cosa ne pensate voi dei destini dei personaggi e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti ieri